Carissimi telespettatori, cari amici di Rete55, buonasera. Siamo alla domenica 18 luglio, nel pieno ormai di tante vacanze, di tanti miei confratelli che sono in montagna con i ragazzi a vivere il tempo estivo nei campi scuola. Anche alcuni che stanno finendo gli oratori iniziati al mese di giugno. Facciamo gli auguri a tutti costoro che deviano il meglio di se stessi nell'educare i giovani che ci sono affidati con tanta collaborazione di laici, educatori e animatori. La beatificazione di Suora Maria Laura Mainetti. Lo dicevamo anche al Tg di venerdì. Una vita donata due volte. Cosa significa? E' stata beatificata la Suora che il 6 giugno del 2000 è stata uccisa, proprio martirizzata in odio alla fede da tre ragazze minorenni. Una vita donata che continua a portare frutti. E questo fa riflettere su quello che è accaduto a Chiavenna, Chiavenna provincia di Sondrio, quindi nella nostra regione Lombardia. E' un senso di quello che possiamo dire una grande sofferenza, amarezza e potremmo anche dire misteriosità di questo delitto. Che è maturato in quel contesto che possiamo chiamare un contesto satanico, dove c'erano dei riti veri e propri di satanismo. E al termine di questo barbaro rito, una decisione maturata quasi per gioco o per noia. La Suora fu attirata fuori dalla sua casa religiosa alle 11 di sera con una scusa. Le ragazze la conoscevano bene e una di loro la chiamò dicendole di essere incinta e di avere bisogno di aiuto. Fu condotta tra l'altro in un luogo isolato, non lontano dalla cittadina ma isolato. E lì fu perpetrato il delitto. Che cosa succede? La potenza del perdono. Si dice, le ragazze, perché poi sono state arrestate, condannate, erano minorenne a quell'epoca, ma nelle varie forme di interrogatorio emerse che la Suor Maria Laura chiese loro di smetterla. Non le avrebbe denunciate. Ma quando capì che nulla le avrebbe fermate nella loro furia scatenata, proprio di violenza, con sassi, con altri oggetti la colpivano, le guardò negli occhi e poco prima di morire assicurò loro il perdono. Martire in odio alla fede. E proprio 21 anni dopo, praticamente poco più di un mese fa, il 6 giugno del 2021, con ancora i sassi macchiati dal sangue di Suor Maria Laura che sono stati portati all'altare, allestito allo stadio comunale, è stata prestituta la messa proprio della beatificazione, niente di meno che dal Cardinal Marcello Semerano, prefetto della congregazione e causa dei Santi. E il centro di tutto questo è proprio la capacità di trasformare, con la grazia di Dio, con la potenza dello Spirito, di cui la nostra Suor Maria Laura è stata, potremmo dire, lo strumento della misericordia di Dio, l'odio in amore. Misericordia, tenerezza, compassione, pietà, perdono, amabilità, benevolenza, la calma di Dio che ha trasmesso a queste ragazze, nonostante la loro cattiveria del momento. E i giovani che scopo della vita hanno, ci si può chiedere, i giovani unico scopo della mia vita, ecco è quello che un po' si è detto in quei giorni, ancora adesso nel riprendere questi discorsi, emerge che questa Suora credeva profondamente nei giovani, per loro non perdeva occasione per conoscere il mondo, la cultura giovanile, il linguaggio, la capacità propria di entrare in relazione con loro. Era nata nel 1939, quindi aveva poco più di 60 anni all'epoca del delitto, quindi ancora giovanile, anche lei nella capacità di mantenere con queste ragazze, in generale con i giovani, un rapporto costruttivo. Anche nell'inter della sua causa di beatificazione è emersa un gigante della fede, perché una persona semplice, buona, anche alcune suore, in modo particolare suore Beniamina Mariani, sua amica e consorella, confessava di essere rimasta colpita da una grande profondità della sua vita, semplice, discreta, e aveva una frase molto bella, per lei nulla è straordinario, era quello che riceveva da Dio, non quello che faceva. E la immagino in questi momenti che dice io non ho fatto nulla, è lui che fa per me. E' quello che ricorda anche il vescovo di Como, l'attuale vescovo Monsignor Oscar Cantoni, che proprio dice che colei che perdona vince con la forza del bene e dell'amore anche il più grande dei mali. Perché abbiamo voluto dire questo episodio, anche di cronaca, che ha fatto molto riflettere, per far capire il valore della vita. Ma una vita senza amore, una vita senza bene, una vita senza la capacità di perdonare, è una vita scialva, spenta, dove si va a cercare, purtroppo anche queste esperienze tristi, devastanti, per combattere una noia o per riempire un vuoto. Quel vuoto di valori che caratterizza la vita di tanti giovani, ma anche da un bombardamento mediatico scelerato, dove sembra che quello che emerge è quello che sfida, quello che è impavido, che non teme, che vuole in un certo senso sfidare anche ciò che sembra giustamente da rispettare, la libertà degli altri, il valore della vita. Un numero crescente di giovani e non solo, sono soggiogati oggi da martellamenti mediatici e non dimentichiamo che dietro qui c'è l'ombra, ma un po' più dell'ombra, la realtà del satanismo, che spesso è possibile purtroppo anche allearsi con i vati patti di Satana attraverso il web. L'attenzione, soprattutto chi mi ascolta che è adulto, attenzione, non si può giocare, non si può scherzare con il demonio, quello fa sul serio. Ed esiste, come esiste il bene, la fonte inesauribile del bene nella divinità, che ci ama, che ci salva, che ci ha redento e che ci dona il suo spirito, con lo spirito che ha guidato la nostra Suor Maria Laura, così esiste il demonio, che ha tanti modi di manifestarsi. Oggi, soprattutto in quella che chiamiamo una comunicazione mediatica senza freni inibitori, dove si dice di tutto e di più, dove si fanno e si propongono anche dei giochi o, se vogliamo, delle esperienze fuori da un rispetto di quello che è il minimo senso della vita umana. Nel web i ragazzi familiarizzano e possono familiarizzare, con sette movimenti distruttivi. Il vero e terribile oscurantismo che minaccia l'umanità e la vita dei tanti giovani, che può sedurre i visitatori e portarli a condividere realtà che sono fuori da quel mondo che noi vogliamo dire il mondo della bontà, della solidarietà. Quel mondo che Suor Maria Laura ha testimoniato con la sua vita, in una vita in cui la fede ha saputo essere, come diciamo sempre, la guida, la capacità di vedere anche attraverso quello che è stata un'esperienza dura, di male, vedere il bene, il bene del perdono, l'adesione incondizionata a Dio, l'ubbidienza a Lui, ci rendono veramente liberi, perché Dio è la nostra pace, Dio è la fonte della gioia, Dio è autentica e duratura felicità. Cercare Dio non vuol dire non essere liberi, ma liberare di noi la libertà più vera, quella che ci consente di scoprire nell'alto, nell'altra persona, un valore, nell'altra persona un interlocutore, nell'altra persona il completamento di noi stessi, la capacità di una relazione che diventa amicizia, che diventa disponibilità, che diventa impegno, anche impegno a costruire dei rapporti affettivi veri, autentici, capaci di dare sicurezza, capaci di interagire con quello che oggi chiamiamo la proposta educativa, che deve vincere una mentalità di superficialità, di qualunquismo di indifferenza. Ecco, Suor Maria Laura risplende come una testimone del tempo di oggi, che la forza del bene vince sempre, anche se apparentemente sempre aveva sconfitta. Crediamoci anche noi e lavoriamo proprio perché sia sempre l'amore per Dio a vincere su ogni altro male del mondo. Grazie di questo ascolto, buona serata e buone vacanze per chi ci va. Grazie di questo ascolto, buona serata e buone vacanze per chi ci va.